Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul canale Oggi in nuova puntata di questa rubrica parleremo del mascara Extreme Vamp della Pupa è disponibile in setonalità, contiene 12 ml di prodotto e il prezzo è di 15,50€ dona subito un effetto volume e delle ciglia super piene e cariche ha questo scovolino in silicone che permette appunto di pettinare benissimo le vostre ciglia la cosa molto bella che mi piace di questo mascara è che è possibile stratificarlo lasciando le ciglia sempre molto flessibili la texture inizialmente è un po' più, tra virgolette, fluida poi, come tutti i mascara una volta aperti, diventa un po' più denso ma questa è proprio la sua particolarità effetto una seconda applicazione è importante pulire lo scovolino prima dell'applicazione altrimenti andrete a prelevare troppo prodotto e vi appicicherà tutte le ciglia e questo è il risultato prima e dopo applicando due strati di prodotto io adoro questo effetto se non vi piace questo effetto di ciglia super cariche, super piene non è il mascara che fa per voi però se adorate questo effetto ve lo consiglio assolutamente perché vi lascia le ciglia flessibili, non le indurisce vi dura tutto il giorno, non si sgretola è una cosa importantissima infatti io lo applico la mattina, la sera quando torno a casa è perfettamente lì dove l'ho applicato quindi è assolutamente un mascara che mi sento di consigliarvi io spero che questa review velocissima vi sia piaciuta vi ringrazio per aver guardato il video e se vi è piaciuto lasciatemi un piccolo like io vi mando un bacione grandissimo ci vediamo domani con un nuovo video ciao